Non respingere i sogni, perché sono sogni. Tutti i sogni possono essere realtà se il sogno non finisce. La realtà è un sogno. Se sogniamo che la pietra è pietra, questo è la pietra. Ciò che scorre nei fiumi non è acqua, è un sognare l'acqua cristallina. La realtà traveste il sogno e dice io sono il sole, i cieli, l'amore, ma mai si dilegua, mai passa se fingiamo di credere che è più che un sogno e viviamo sognandola. Sognare è il mezzo che l'anima ha perché non le fugga mai ciò che fuggirebbe se smettessimo di sognare che è realtà ciò che non esiste. Muore solo un amore che ha smesso di essere sognato, fatto materia e che si cerca sulla terra.